Buongiorno a tutti colleghi, con questo piccolo video presento un paio di strategie che ci permetteranno di dare maggiore sicurezza alle nostre famiglie che stanno accedendo a un sacco di contenuti su YouTube che vengono da noi proposte in occasione di questa scuola a distanza e di formazione a distanza, però queste strategie possono funzionare anche nell'ambito della scuola, diciamo, normale. Dobbiamo quindi ricordarci di porre attenzione, soprattutto con i bambini della primaria, ai link diretti su YouTube controllando che non si aprono con accanto anteprime di video non adatti. Come possiamo fare? Possiamo ad esempio incorporarli una slide di presentazione di Google, in questo modo il video si potrà vedere senza accedere a tutta la pagina di YouTube. È molto facile, lo facciamo insieme. Allora andiamo su Google Drive, Google Drive, clicchiamo il nostro spazio, nuovo, presentazioni Google, è un po' l'equivalente di PowerPoint, questo fuori elettronico, togliamo questo modo per avere la nostra pagina liscia, inserisci video, inserisci video da YouTube, incolliamo il link del video che vogliamo fare e vedere, selezioniamolo, eccolo qua, e il video apparirà qua in tutto il suo splendore, senza alcun disturbo. In questo modo, nella mia presentazione, quando io l'avvierò, comparirà così. Depositivo 1, partirà, e poi la mia presentazione, voilà. Vedete? In questo modo si vedrà una pagina di YouTube, un link di YouTube senza pubblicità e senza sovrapposizione di altri video pericolosi per la sicurezza. Possiamo ottenere lo stesso risultato con un'altra strategia che si chiama www.safeyoutube.net. Ve la mostro immediatamente. Ecco qua, andiamo su questo sito che si chiama www.safeyoutube.net e qua andiamo a incollare il link YouTube del video che vogliamo presentare ai nostri alunni. Automaticamente lui mi genera un link molto più protetto, senza disturbi pubblicità. Eccolo qua, il mio link, copy. E noi, agli alunni, andremo a inserire questo indirizzo qua su Regal. E loro vedranno esattamente questa cosa qua. Vedranno quindi un video su una piattaforma protetta, senza pubblicità e senza altri collegamenti. Eccolo qua. Perfetto? Ok, io spero che sia stato chiaro. Vi saluto a tutti. Buona giornata.